Sta meglio. Dopo un delicatissimo intervento e giorni trascorsi in terapia intensiva, il 45enne è rimasto ferito da un colpo di pistole esploso dal cognato all'interno di un appartamento di via Benvenuti, a pochi passi dal centro storico Aretino. La guardia giurata di 41 anni resta invece nel carcere di San Benedetto. I suoi legali Pietro Melani Graverini e Gianluca Felciai stanno valutando se avanzare una nuova istanza per i domiciliari. La prima era stata infatti rigettata dal GIP Giulia Soldini nell'udienza di convalida dell'arresto. I difensori adesso potrebbero indicare un luogo diverso dall'appartamento di via Benvenuti dove abita l'uomo, che potrebbe essere così più idoneo e potrebbe permettere l'applicazione di una misura meno afflittiva. L'episodio risale allo scorso 25 gennaio, quando all'interno dell'abitazione una lite per motivi familiari si era conclusa nel sangue. All'origine del diverbio tra il 41enne e la sorella pare la gestione dell'anziana madre, una discussione che si sarebbe fatta sempre più tesa al punto che la donna aveva chiamato il marito. Da qui la situazione però sarebbe degenerata. La guardia giurata avrebbe esploso un colpo di pistola contro il cognato, colpendola all'addome. Le condizioni del 45enne adesso sono finalmente migliorate nelle prossime settimane. Potrebbe essere proprio lui a raccontare agli inquirenti cosa è accaduto quella drammatica sera. Grazie. Grazie.